e la bandiera la piantano tutti insieme. Amundsen in quel momento vuole che tutti prendano l'asta e tutto il suo team pianta la bandiera di un tratto, nello stesso momento. Non c'è Livingstone, non c'è Stanley, c'è un team. Rapporto con la tecnologia. Io lo sintetizzerei così, la tecnologia non è una competenza di pochi, cioè dei cosiddetti tecnici, ma è cultura per Amundsen. E in quanto cultura deve essere di tutti. Rapporto con la tecnologia. Rapporto con la tecnologia. Rapporto con la tecnologia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.